Steam Raiders Oddio, ecco, ecco, ecco dove sei Ecco, ho fatto un incubo C'erano siti che vendevano videogiochi a pochissimi euro Ce ne erano troppi Non si sapeva più cosa fare Non sapeva più cosa prendere Come orientarmi Meno male che era solo un sogno No Oddio no, è tutto vero, è tutto vero Ecco, allora come facciamo, come facciamo Eh, come dici? Ah, è vero, è vero C'è un nuovo canale Un nuovo canale che tratta di videogiochi scaricabili da questi siti Da Steam, da altri E fa solo recensioni su quello E com'è che si chiama, ecco? Ah, sì, è vero, si chiama Steam Raiders È vero, è fantastico Ed è fatto da Muse Ed È fatto da lui È una cosa bellissima È una soluzione a tutto È una soluzione a tutto È una soluzione a tutto Che bello Che bello Ma scusami un attimo Questa non è una soluzione a tutto È semplicemente uno dei tantissimi canali di YouTube Che... No Oddio, ok, va bene Meno male che abbiamo anche una pagina Facebook Sul quale riferirci Vabbè, dai, ecco Mi sa che sarà anche ora di metterci al lavoro Per Steam Raiders Anzi no, scusate Per Steam Raiders Questa è una soluzione a tutto